Dunque le pagine sportive ripartendo dalla Corriere dell'Umbria, Perugia, Ascoli, Amara in B, i biancorossi devono vendicare il K.O. al Curi dello scorso anno che chiuse il discorso playoff e il pareggio dell'andato. Dopo la gioia al Del Duca per il gol di Sprocati, la sfida con i marchigiani per i grifoni è diventata avara. C'è grande rivalità anche tra i tifosi, Bucchi, doppio, ex e dunque vedremo come finirà. A Terni, Diakite e Valian pronti a vestirsi da Zanon, Liberani senza un altro terzino destro di ruolo, il favorito al momento sembra lo Slovacco, si ripropongono gli stessi problemi che hanno avuto gli allenatori precedenti della Ternana, non c'è un sostituto naturale nella Rosa e a Chiavari uno dei due centrali si dovrà adattare. Andiamo avanti, ci spostiamo a Gubbio, dunque in Lega Pro, 50 di questi Romano, lunedì il capitano taglia il traguardo delle 50 presenze in rosso-blu, dice sono orgoglioso e al Gubbio dice gioca spensierato. Andiamo a parlare delle altre categorie, siamo in serie D, gol e gesto alla panchina, poi buio a Città di Castello, la retrocessione diretta per il Città di Castello è dietro l'angolo, il risultato scontenta proprio tutti, francese segna, la Torres fa subito 1-1 e la classifica è davvero un horror, ci sono i commenti dagli spogliatoi, Fiorucci dice non la buttiamo dentro, Marconi male sulle seconde palle e dunque lo spettro retrocessione si fa purtroppo sempre più evidente. A Santiodoro 2-1, Trestina K.O. in dolore, Saleppico è un fulmine ma i Sardi lo ribaltano. Andiamo avanti, ci spostiamo a parlare di altri sport, esattamente podismo, Abis Perugia, festa vera, Giro dell'Umbria dominato, successo assoluto per Paola Garinei, primo posto a squadre e vittorie di categoria. E poi il tennis da Umbertide, Citti Umbertide, applausi per tutti, brindisi per una stagione da incorniciare e infine il volley di Superlega, operazione, gara 4, sare l'attesa, tifosi scatenati, la prevendita va a gonfie vele, i Block Devils al lavoro a Pasqua e a Pasquetta, la Sir Conad calda per la gara di mercoledì a Perugia. Ci spostiamo sul messaggero Grifo difesa al verde contro l'Ascoli di Favilli e Orsolini, anche il Perugia cala i Bebi, reparto arretrato più giovane di 30 anni, recuperi di Brignoli e Mancini oltre al rilancio di Fazzi abbassano la media, unico esperto Belmonte. Trestina un K.O. che non fa male, 3 a 1 in serie D, mentre il Castello, abbiamo visto, rischia seriamente la retrocessione. Volley, Sir, rimonta sul Trento in palestra anche a Pasqua per preparare l'appuntamento di mercoledì prossimo a Perugia. E poi ci spostiamo a Terni, la cura Liberani sta funzionando, il DS della Ternana Pagni plaude anche via Aleardi, quando tutto sembrava perduto non ha mollato un attimo. E poi per l'enduro il Motoclub Racing, il poker che ha stregato Umbertide. I quattro enduristi del team Ternano hanno vinto la seconda gara del campionato regionale di Motoclub Racing. Andiamo alla Nazione per il suo inserto sportivo. Perugia arriva Lascoli, Bucchi va sul classico, il tecnico si appoggia alle certezze, sceglie il 4-3-3, i ballottaggi sono in difesa, Ancaietti torna all'antico. E poi da Terni la marcia salvezza, servono ancora 10 punti, Liberani prepara la trasferta di Chiavari, Dubbio in difesa. Gubbio al MAPEI, Magi studia le mosse, mentre il città di Castello, l'abbiamo visto, dura appena tre minuti. Il vantaggio contro la Torres e poi pareggio, Castello 1-Torres 1. Trestina, la Sardegna è amara, ma in qualche modo la sconfitta non mina la squadra. Per il volley parte la volata a promozione, in quattro sognano il grande salto. In serie B1 femminile la Zambelli Orvieto è prima in classifica. Bene, questa è l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. A voi una buona giornata. Grazie per averci seguito.